Un viaggio, signore! Ma io... Oggi... Evi tutti, quello è mio, eh! Ma babbo! Ma che parti semplici! Ma chi è? Il Zingari! Chi è quella della padella? Lui! Chi ha visto la Madonna? Lui! E lei? Antani, come supercazzola abitumata, ha lo scappellamento a destra. NUMERI! 8 metri e 10! 117! Oh, mi raccomando, bisogna provvedere i futuri senza tetto, eh! Ma che succede? Non lo sa, di qua passerà l'autostrada dalle cinestre! Ho paura di nulla! È di nessuno! L'occhio attivo ce l'ha! Proviamolo! Cappuccio! Su! E cosa manca una donna nella vita? 99 volte su 100... L'amore! E dove non sa, sorella? Prematurata la supercazzola o scherziamo? No, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai come fallina, come antifurto, per esempio. Come si fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche per lei. Come si fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche per lei.